E' una gara storica del 22, che è stata riportata in auge tre anni fa. Che abbiano moto del poca loro, delle sorte di concorsi per trovare partecipanti e anche donne a cui loro davano la moto. Ho fatto nella selezione con donne in sella, si sono portati via la moto per un mese e l'hanno provata. E' bella vera. Grazie a tutti.